Vengono presentati oggi 25 nuovi veicoli elettrici per rendere il trasporto per gli alunni con disabilità ancora più sostenibile. Come nasce questa partnership con Arriva e quali saranno i suoi sviluppi futuri? Noi stiamo lavorando con tanti operatori italiani, cercando di portare in Italia un sistema di mobilità che ormai è un punto di forza di elixir nel mondo. gestiamo circa 4.000 autobus elettrici in giro per il mondo dall'America Latina all'America del Nord in Europa. È una mobilità nuova in cui noi forniamo tutta l'infrastruttura, l'automezzo, il software che serve per ottimizzare l'utilizzo dell'automezzo e lo forniamo in una mobilità di servizio. Cosa significa? Che sostanzialmente l'utilizzatore paga per chilometro per corso e questo permette di fare un confronto molto rapido, molto veloce per quello che è il costo di proprietà dell'automezzo, di gestione dell'automezzo, per un automezzo elettrico e un automezzo che possiamo chiamare tradizionale. Questo ci sta portando in questo momento a far sì che la domanda per questo tipo di servizio stia crescendo in maniera disponibile. Grazie a tutti.